Ciao amori miei, eccoci qua! Allora, oggi vi preparo, indovinate un po'? Eh, che pare facile qua, indoviniamo un po'? Dico un po', Barbarì, lo dico io. E taglie, va. I cavoli melati. Vi piace o no? Allora, iniziamo. Vai. Allora, 250 grammi di mandorle, eccole qua. Vedete, belle, eh? Tante sono le mandorle e tanto è il miele. 250 grammi di miele. Eccola. Mamma mia. Vedete? Guardate che bello. Ecco, facci. Ecco qua. Adesso io giro bene bene, vedete? Allora, adesso metto un po' di cannella, eh? Un cucchiaino. Un bel cucchiaino, sì, sì. Se non vi piace non la mettete, eh? Però ci sta bene. Ci sta bene, certo. Profumino di miele e cannella qui. Adesso io qui ho un bicchiere di farina, però non lo so quanta ce ne va, perché la farina è quella che si prende, ok? Vabbè, tutto ci va, ok? Ecco fatto. Adesso vado tutto sulla tavola, eh? Ecco qua. Qua vicino mettetevi sempre un po' di farina, perché è quella che si prende, eh? Allora, non vedevo l'ora dei fagli, eh? Sti cavoli melati. Ecco. Qua. So proprio buoni, eh? So duri, però so favolosi questi, eh? Eh, però so buoni. Questi, se li fate adesso, si mantengono benissimo, eh, per Natale. Anzi, è pure meglio, eh? Allora. Considerate, io ho messo un bicchiere e mezzo di farina, eh? Va boh? Piano piano, poi vedo vedere con la voi. Perché questa è così, capito? Ecco. Adesso faccio una bella salamella. Un salamone. Vedete? Dai, è gildare. Siamo tutti con te, eh, gildare. Ecco fatto. Ecco fatto. Poi qua in tanti già aspettavano la ricetta dei cavoli melati, eh? Sì, dei cavoli melati, sì. Allora, ve lo rispiego. Allora. Tot di mandorle, tot di miele. E la farina solo quella che si prende. Che te ridi, sta ridi? Ma, dai, basta frega, va. Perché sarei? Oggi si è messa la broncina da principessa, tutta sulla fronte, gildare. Ma, ma, perché mi sta scendendo, veramente? No, però sta... Mi prende in giro. Stavi carina. Dai, stavi carina. Eh, stavi carina. Mi aiuta, mi direi ma su. No, gildare. Dai, su. Ma te stava bene? Dai, che mi impicci le idee. Ma, a te. Allora, aspetta. Vai. No, che vai. Incomincia a fare i cavoletti. Devo squadra tutto, guardo bene qua. Ok, il cortello grosso. Guardatela come si impegna. Tutti i precisi. Sono sicura che ha fatti tutti i precisi. Tutti i precisi. Sono sicura, mamma mia. Che buoni ragazzi ti è. Lo maniere già così io, eh. Lo dico subito. Spettacolo, girdare. Questi quando eravamo ragazzine. Eh. Mamma mia, a Natale, mentre giocavamo a tombola, sgranocchiavamo questi. Perché poi sono duri ma morbidi. Non ve lo so spiegare. Poi, se ne avete fatti. Sono buoni. Sono buoni. Tanti si conoscono. Eh sì. Allora, adesso li vado a infornare. Il forno sta a 180. Quando li metto dentro lo basta a 170. Per una ventina di minuti. Va bene? Va bene, andiamo. Pronti, gildare? No, ma vede? Mamma mia, ragazzi. C'è un profumo. Prontissimo. E deliziosi. Questi sono duri, però... Eh, questi sono così. Duri, ma tipo gommosi, come le posso dire? Il duro morbido? Le mandorle scrocchiarelle. vabbè chi li ha fatti l'anno scorso guardate per staccarlo fa vedere com'è però eh senti come scrocchiano mamma mia che croccantezza a Natale che vuoi dire a fa? giocata a carte o a tombola e uno dice oddio speriamo che faccio sette e mezzo intanto magna buoni fateli fateli perchè sono buoni perchè sono spettacolo eccoli ti senti un po' senti gildarella vabbè va manierebbe tutto allora amori miei eccoli qua i cavoli melati questi sono i cavoli nostri voi muove fate i cavoli vostri va bene pure mia fatevi eccoli perchè eccoli qua va bene amori miei va bene gildarella tanti baci belli sempre dal cuore e piatto ricco meceficco mi amo tiraci un bacetto ciao amori 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 ciao amori